Un abito importante, due bottoni, la vera lancia, tasca a pattina, da notare di questo blu, blu pieno, blu vero, un abito blu, esattamente questo, abbinato camicia celeste e questa bella cravatta a fantasia floreale, molto fitta, molto bella, sembra un pois, però è un fiorellino. E devo dire che questo è un tipico abito che noi possiamo definire versatile, perché in base a come viene abbinato cambia completamente il look. In questo caso abbiamo scelto di abbinarlo come se dovessimo andare a un appuntamento, come se fosse un abito al giorno e l'effetto è ben riuscito. La fodera interna è questo strepitoso bordò cangiante che utilizziamo spesso, che insomma con questo blu è certamente molto ricco. e credetemi l'effetto di quando togli la giacca e si vede questo bordò così ricco, così importante, è certamente di grande ricercatezza, grande impatto e che suscita un po' di curiosità. Spero che l'abito e che il video vi siano piaciuti, ci vediamo da Dal Sarto.